Sulla nostra regione continua ad affluire aria molto calda di natura africana in un letto di correnti situato tra due figure bariche antagoniste, una circolazione depressionaria che insiste sulla penisola iberica e un promontorio anticiclonico esteso dal nordafrica al mediterraneo orientale, si tratta di una configurazione barica poco evolutiva e dunque anche nel corso di questo fine settimana l'elemento di maggiore spicco sulla nostra regione sarà il caldo, caldo che nella giornata di giovedì 14 maggio ha fatto registrare valori di temperatura inconsueti per questo periodo, fino a 34 gradi centigradi nel Beneventano e valori diffusamente sopra i 32 gradi centigradi nel Cilento e Vallo di Diano. Oggi invece stiamo assistendo ad una moderata attenuazione. Le giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio saranno quasi identiche, con cielo irregolarmente nuvoloso ma con ampi spazi soleggiati, temperature in lieve aumento nella giornata di sabato con valori massimi ovunque al di sopra dei 30 gradi centigradi, venti generalmente deboli dal sud-est, con rinforzi lungo la costa e di mare aperto, tendenza a ruotare da est nel corso del pomeriggio sera di domenica e a rinforzare ovunque, mare mosso. Da lunedì la depressione iberica tenderà a progredire verso Levante forzando il muro dell'alta pressione, alta pressione che nel corso della giornata di martedì 19 maggio sarà costretta a ripiegare verso sud-est sotto l'ingalzare di sostenute correnti sud-occidentali, convogliate dal minimo depressionario in avvicinamento da ovest. Depressione che entro mercoledì 20 raggiungerà il tirreno, determinando condizioni di diffusa instabilità con possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco. Ovviamente le temperature subiranno una sensibile diminuzione, riportandosi su valori in linea con la media del periodo. Per maggiori dettagli visitare il sito www.meteosette.it